Bambino. La sua mano è così calda. Ci ha lasciato cadere delle lacrime per rinfrescarla. Beh, a lei non importa di me, io non conto. Ma qualcuno deve curarsi di lei. Io potrei se vuole. Ma che bambino. La sua mano scotta. Allora bagna di lacrime, per questo? So bene di non essere niente, per lei io non conto. Ma qualcuno dovrebbe curarsene. Lo farò io, se permette.